Grande Fratello 2018, data di inizio, conduttrice news. Sta per tornare il Grande Fratello, quando sarà trasmesso il TV, ecco le anticipazioni. Il Grande Fratello sta per tornare sul piccolo schermo della rete di Canale 5, la prossima edizione, non bip, è prevista nel corso del prossimo anno e vede la partecipazione di concorrenti comuni, non famosi nel mondo dello spettacolo, che intraprenderanno una sorprendente ed emozionante avventura all'interno della casa più schiata dal pubblico italiano. Scopriamo i maggiori dettagli e tutte le rime anticipazioni riportate di seguito. Romo Grande Fratello 2018, confermato il ritorno in TV Grande Fratello torna sul piccolo schermo nella sua versione classica dedicata a concorrenti comuni e non ai soli personaggi famosi, già popolari nel mondo dello spettacolo italiano. Il ritorno di questo reality, in versione originale, è tanto atteso e commentato sul web ma soprattutto sui social, dopo le prime due edizioni del Grande Fratello Vip due minuti sono stati numerosi i commenti dei telespettatori, che appellavano pubblicamente il loro desiderio di assistere ad una nuova stagione del Grande Fratello. A quanto pare la volontà di un numero davvero rilevante di FEN è stata accolta in quanto nel corso del 2018 sarà trasmessa, su Canale 5, avremo modo di rivedere una nuova stagione del GF che, al momento, vede ultima vincitrice la giovanissima ex concorrente, Federica Levanti. GF 2018 GF 2018 Anticipazioni, data di inizio e conduttrice Alessia Marcuzzi è la conduttrice più richiesta per ricoprire il ruolo di conduttrice nella prossima edizione del Grande Fratello. Le prime anticipazioni, per, ci rivelano che la presentatrice della rete Mediaset non sarà presente a capo della nuova edizione del GF poiché la donna ha rifiutato ufficialmente l'incarico. La possibile sostituta sembra essere l'attraente show Gir l'Argentina, Beller Rodriguez aspettando gli sviluppi che confermeranno il nome della conduttrice, scopriamo quando il reality avvierà la sua messa in onda. Le primissime indiscrezioni ci preannunciano, che la nuova edizione del Grande Fratello sarà trasmessa, su Canale 5, a chiusura del reality show L'Isola dei famosi 2018 minuti, la data indicativa ricadrà da marzo. In attesa di conferme ufficiali vi anticipiamo che il numero degli aspiranti concorrenti che stanno effettuando il casting, con la speranza di riuscire ad entrare nella casa più schiata di Italia, è veramente alto. Per saperne di più vi invitiamo a rimanere in costante aggiornamento cliccando sul tasto segui che si trova. Grazie 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 Grazie